Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il rilancio delle aree interne, soprattutto dopo le drammatiche conseguenze provocate dal terremoto e dalla pandemia, passa anche e soprattutto attraverso il miglioramento dei servizi da offrire alle famiglie del territorio. Ciò anche al fine di evitare lo spopolamento che rappresenta un vero e proprio incubo per tutti i sindaci dell'entroterra. Tanti, troppi, sono però i problemi che alcuni comuni si trovano ad affrontare, come nel caso di Valle Castellana, dove le strade sono ridotte in condizioni pessime, la viabilità presenta numerosi problemi e l'amministrazione comunale, pur agendo nel massimo delle sue possibilità, non sempre riesce a risolvere ogni necessità palesata dalla popolazione. Ci sono tantissimi problemi, dalla rete internet, che non riusciamo per vari problemi che ci sono, con i vingoli che abbiamo, di alcune strade che ancora non sono più strade ma sono delle mulattiere, io chiamo mulattiere, le poche attività commerciali che ci sono hanno bisogno di aiuto. Noi come amministrazione stiamo facendo del tutto per cercare di dare una mano, abbiamo, secondo noi, secondo anche il popolo, perché ha risposto benissimo nelle ultime elezioni, vingendo alla grande, abbiamo fatto sicuramente bene, però solo il comune non riesce a sopportare tutto quello che c'è bisogno, le aree interne del comune di Valle Castellana. Dall'assessore Caterini, dunque, arriva anche un appello importante al nuovo governo e alla Regione. Mi auguro vivamente che la politica che conta, la politica nazionale, regionale, che è un po' distante dalle aree interne, che si ricordi delle aree interne e soprattutto di Valle Castellana.